Un lungo taglio del nastro per questa cortora antiquaria 2012 che ha visto protagonisti anche i bambini. 50 anni sono un traguardo straordinario, noi siamo la manifestazione più antica d'Italia da questo punto di vista, oggi vi è la consacrazione di questo nostro orgoglio e come dico sempre è questa la manifestazione più amata dai cortonesi. Lo dimostrano anche oggi con questa massiccia partecipazione e l'ha dimostrata l'amministrazione comunale cercando di dare a questa iniziativa un tono ancora maggiore che negli anni scorsi con iniziative particolarmente importanti, sfiziose, divertenti ma anche di grande qualità come nella nostra tradizione. Si respira un bel clima di festa oggi a Cortona, si scaccia un po' anche la crisi economica con queste manifestazioni? Ma io credo, lo dico con estrema chiarezza, io credo che la cultura sia uno dei segmenti dell'economia che non dà segnale di crisi. E questa è una mostra importante che non ha valore poi solamente per la Toscana, ma è una di quelle più qualificate su tutto il territorio nazionale. Quando parliamo dell'antiquariato c'è anche un'attenzione appunto alla vita vissuta da noi, dai nostri avi, dai nostri nonni e purtroppo viviamo invece in una società dove non si dà tempo alle cose vecchie di diventare antiche e qui invece abbiamo un bel esempio di conservazione, di cose importanti. Non a caso un museo come questo anche caratterizza questa cittadina che credo sia una delle più belle della Toscana.